Che il cadavere ritrovato sulla spiaggia di Palese il 7 gennaio scorso appartenga al 24enne Roberto Straccia, scomparso da Pescara il 14 dicembre, sembra ormai un elemento accertato. Solo l'esito del DNA e del calco dentale consentiranno però l'identificazione ufficiale. L'autopsia, durata oltre 5 ore, è stata eseguita ieri pomeriggio dal medico legale Giancarlo Di Vella, assistito dall'odontoiatra forense Emilio Nuzzolese. Per la famiglia presenti i consulenti Enrico Risso e Claudio Cacaci. Nessuna indiscrezione sull'esito perché gli atti sono stati secretati e non si avranno risposte, fa sapere la procura in una nota ufficiale prima di 30 giorni. Speriamo quanto prima di avere i risultati delle analisi e non possiamo fare nient'altro. Non si può neanche dire se si può escludere categoricamente una ipotesi? No, alla luce attuale non possiamo dire assolutamente niente. Sono tutti riservati con ulteriori accertamenti, approfondimenti per tutta una serie di analisi. Ancora troppi, quindi dubbi sulla morte di Roberto e l'ipotesi del suicidio sembra allontanarsi. Nessun segno di morte violenta, è vero, ma poca acqua nei polmoni che significa che il ragazzo potrebbe essere caduto in mare, già in stato di incoscienza. Elementi che saranno accertati dagli esami istologici e tossicologici. I genitori, ieri a Bari per la seconda volta, continuano a chiedere verità. Ieri sera, durante la trasmissione Raichi l'ha visto, hanno raccontato di un sms di cui sono già stati informati i carabinieri di Pescara, ricevuto da un'amica di Roberto. Un anonimo farebbe nome e cognome di un testimone oculare che avrebbe visto due uomini spingere il ragazzo verso il molo. Se sia attendibile lo stanno accertando gli investigatori abruzzesi, che probabilmente già nelle prossime ore ascolteranno l'uomo di cui parla il messaggio. Intanto, essendosi conclusi a Bari gli esami sul corpo, la procura potrebbe mettere la salma a disposizione della famiglia già domani per consentire di svolgere i funerali.